In tantissimi ci avete chiesto di fare una challenge a Forza Ancudo Ma noi abbiamo deciso di complicarci la vita e vogliamo rubare due jet in un solo tentativo E ragazzi come va? Io sono Feriniki E io sono Steph e questo è Giacomo GTA V E torniamo con una fantastica challenge, ovviamente quella che ci avete chiesto di più Perché davvero la sezione dei commenti è sempre Fate una challenge a Forza Ancudo, fate una challenge a Forza Ancudo E quindi eccoci qua prontissimi con una challenge abbastanza originale Beh ma è uno dei posti più epici e normali che ce l'avrebbero chiesto in tantissimi Allora la nostra idea è molto semplice, è una questione di collaborazione Quindi io e Feriniki siamo un team per oggi L'obiettivo, devi accettarlo, l'obiettivo è riuscire a rubare due jet in un solo tentativo Quindi nel momento in cui entriamo dobbiamo riuscire a fuggire entrambi ognuno col suo jet Già difficile rubarne uno, rubarne due ragazzi è un dramma incredibile Sì perché poi se uno ne ruba deve aspettare comunque l'altro per uscire fuori assieme Quindi sarà davvero tosta Inoltre, dato che non basta mai, c'è pure una penitenza per il perdente Perché quando appunto riusciremo in qualche modo magico a rubare due jet Ci sfideremo uno contro uno ognuno con il proprio jet E chi riuscirà a far esplodere l'altro vincerà E il vincitore potrà scrivere uno stato a sua scelta nel facebook dell'altro Quindi tipo se io vincerò scriverò una roba tipo nel profilo di Feriniki Quindi Steph è bellissimo, è il ragazzo più bello del mondo, bla 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 Non vi voglio spelerare nulla In ogni caso dico subito, dato che molti sanno, ma io non ho facebook Vi dico subito che metteremo lo screenshot dello stato nel video che uscirà il giorno dopo questo In ogni caso abbiamo anche i profili pubblici Quindi si potrà vedere tutto anche se non siete iscritti a facebook Se ci volete aggiungere, quello che volete Esatto, quello che volete Ma io voglio iniziare, vado Vai Allora aspetta, aspetta, come ci organizziamo? Cioè entriamo, tu mi lasci in un jet, poi vai con la macchina, come facciamo? Feriniki che pensa a un piano? Beh certo Tu entri e spari tutto di solito Allora non si può, perché qua hanno capito i carri armati Ci sono i militari super armati che ti fanno esplodere Il mio piano Quindi bisogna stare organizzati e concentrati Diciamo che non ho proprio un piano Però la mia idea era di lasciarti dove c'è un jet, dove non c'è molti, dove non ci sono molti militari Tu ci sali sopra, te ne vai Ma è difficilissimo E poi penso al mio Ricordati che ci sono dei lanciamissili che ti fanno esplodere appena sali col jet E quindi ti devi muovere un po' a zigo zago all'inizio quando scappi No, non mi puoi dire una cosa del genere, non puoi Beh, pensavi che fosse semplice? C'è pure il lanciamissili No, vabbè Dimmi che c'è un jet qua No Ovviamente non c'è Quando ti servono non ci sono mai Nei posti chiusi è un po' più semplice perché tendono a non esserci dei militari o comunque solo uno Esatto Oh Ma è comparso all'improvviso? Anche secondo me è comparso all'improvviso Io non l'avevo visto Ma neanche io Allora, dimmi che qua c'è Sì, vai Sì, sì Vai, 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 vai Io ti copro Eh, ho tutta la polizia dietro Mi devi coprire bene perché quando fa l'animazione sono sparabile Mettila così, capito? Lo so, lo so Ah, aiuto Spacca tutto ed entra Ok, ok Ti devi togliere però Non so come Ti devi togliere C'è un cararmato Matto No, me ne sono accorta Ma che? Davvero? Sì Magari l'hai confuso con una farfalla Ma ti garantisco era un cararmato Ok, lo so che si può confondere per quanto sono leggeri e tranquilli No, allora il problema è che se stavi lì in mezzo Eh, non potevi partire Io ti avrei ucciso, capito? Ti avrei schiacciato Quindi non potevo far fuori te che mi sei Ma io ero lì che ti coprivo come un eroe Ah, no Ci dobbiamo riprovare È certo che ci riproviamo Ci dobbiamo riprovare Non mi rendiamo qua il primo tentativo Sono fiduciosa Secondo me ce la possiamo fare Scusi Ci serve la sua macchina Grazie È sempre gentile la gente di GTA Ed eccoci di nuovo Secondo tentativo Hopla Hopla, hai visto come sto guidando bene? Bravissimo Allora, pistola mitragliatrice pronta Ormai entriamo qui come se fosse casa nostra Sì, sì, sì Ci hanno dato le chiavi Sì, a voglia Loro lo fanno come addestramento, capito? Per vedere se la base Sì, certo Per vedere se sei un militare ben addestrato E riuscireste a entrare anche nelle basi nemiche Esatto, vedi Guarda qua che bei jet Ma non è che proviamo a salirci entrambi? Nel senso ognuno nel suo Vai veloce Vai Corri No, ci sono i militari lì Dov'è? Prendi quello, prendi quello, prendi quello No, no, no Abbiamo i militari di fronte, ma non li vedi? Eh, li ho visti troppo tardi Vabbè, io sto provando ad entrare Ok, io Vado, c'è la tua macchina sempre in mezzo qui Sono morto, sono morto Lo so già, sono morto Io sto partendo Stai esplodendo tutto Ma dove sta il carro armato? Sto partendo Ti ho visto partire, il carro armato Ti ho ucciso? Ti hanno colpito, sì Ti hanno colpito, te? No Ah Ecco, sì Cavolo, ma come fai a schivarli? È impossibile, cioè ti prendono e basta Ho provato anche a guardarmi dietro, ma niente Cioè li vedo arrivare Devi usare 4 e 6 Che ti permette di girarti Sì, l'ho capito Ma ce l'hai presente quanto sono veloci i missili? Tu vorresti le cose come se dovessimo mangiare un pezzo di pane Qua stiamo rubando dei jet Ovvio Armi militari di ultima tecnologia Sai quanto costa uno di quelli? No Ecco, meglio, meglio Che non te lo dico neanche Quindi prendi una dannata macchina Che qua mi stanno fisso investendo, va Buongiorno, buongiorno Come state oggi? Vi state allenando? Sempre arrabbiati, vero? Magari il fatto che è notte ci dà un po' una mano Dici? Sì, certo, guarda Sì, sì Sicuramente non ci vedono di notte, vero? Che dici? Perché era già pronto lì il carro armato? Non lo so Così non è giusto, eh Io li sparo Di solito arriva dopo un po' Li sparo No, non sparare nessuno Non farli arrabbiare ancora di più Eh, ma se non li uccidiamo qui non... No, ok Aiuto L'ho schivato, non so come No, vabbè, ma è pieno Oddio, oddio Ragazzi, com'è possibile? Aiuto Le vedi le esplosioni? Cioè, ce ne sono anche di più la notte, è impossibile Aiuto Uh, uh, uh Guarda questo È anche già aperto, vai Eh, ma che vuoi fare? Scendi, scendi, scendi Non ce la facciamo mica Cioè, ce l'ho dietro Vai, vai, vai Non ce l'ho dietro Vai, vai È anche già aperto, quindi muoviti Esatto Muoviti Dai, sali Ok Ok, ci sono Parti e ricordati di scrivere i missili Ci sono Ci sono Ci vediamo dopo Vado Ti vedo volare Ho troppa paura Ti vedo Ho troppa Sì, va Sì, è troppo presto Giro tutto in tondo Non me ne frega nulla Un po' di quattro Un po' di sei Non fare capriole Ui No, 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 no Ma ti prendono lo stesso Che cosa mi dici? Tanto avevano ammazzato anche a me Non ce la faremo mai Te lo dico Non ce la faremo mai No, vabbè Dai No 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 Siamo sfigati L'agra della bilba Questa Io te lo dico È la dimostrazione che la fortuna Non sta dalla nostra parte oggi Cioè, proprio Come quando c'è il bicchiere mezzo pieno Lo vedi sempre però mezzo vuoto Capito? No Sei quella cosa del mezzo pieno Mezzo vuoto No, no, no Più quando lanci una monetina E va dentro le pogne Perché dovresti lanciare una monetina Che poi va dentro le pogne Perché tu la lanci per fare testa croce E finisce dentro una fogna È perché la lanci di fronte a una fogna Scusami Perché tu neanche la vedi Lo fai dentro a casa Compare un buco nero E si risulta la monetina Esatto Vai Esatto Dai, ce la puoi fare Quando succede quello Consolini vuol dire che è un giorno sfigato Andiamo Quindi fatela come prova Se vi appare un buco nero con la moneta È un giorno sfigato Prima di andare a scuola Mi raccomando provatela sempre Se succede non andate a scuola È proprio chiusi in casa Dite a vostra madre No mamma, c'è stato buco nero C'è il buco nero No, ok L'hanno detto Steff e Ferenichi Quindi è legge Esatto Ok Allora, veloci, veloci, veloci Concentrati Io sto perdendo le speranze Qua Qui Questo è il più facile L'ho capito Però se ti fermi Magari è ancora più facile Vai Diciamo che non volevo fermarmi qua Ti straili Perché se i carri aromati Secondo me sparano a te Io riesco a fuggire E tu magari No, stanno già iniziando Ma già Aiuto No, aiuto No No Dimmi che sei ancora viva Stanno inseguendo a te davvero Mio Dio Esatto Però ragionando com'è Vola via Vola via Cerca di fare 4 e 5 Come ti ho spiegato 4 e 6 4 e 5 Ti prego Ti prego dimmi che ti salvi No, vai, vai Oh mamma mia Che succede? No, non fa È impossibile Cioè, ho fatto anche come Mi hai detto Tu è impossibile Ti ha preso? Sì, ti prendono lo stesso Cioè, ti prendono lo stesso Vediamo Niente Nah, è andata bene Tranquilla Non c'è il mio corpo che brucia Ne hai rubato due Uno anche per me, vero? Sì, sì Ottimo Vieni che te lo do Tieni Tutto per te A sto punto proviamo Alla vecchia maniera Ovvero Chiamiamo Lester Niente guai Niente stelline Per 5 minuti Ci prendiamo i jet E ci vediamo Ma funziona? A forza ancora Non lo so Però tanto se no So che ci scriveranno Tutti nei commenti Quindi ci proviamo 3, 2, 1 Attiva Ok Ok, sali macchina Andata stavolta Abbiamo 3 minuti Per entrare Rubare e scappare E ucciderci a vicenda E ucciderci a vicenda Prima che i missili arrivino Che disastro Se uno dei due esplode Se uno dei due esplode Vince l'altro Perché te lo dico Ormai va a finire così Sì Ormai va a finire così Dopo che usciamo Chi esplode esplode No perché altrimenti Scusi non mi tamponare Che per un testa coda Non ha retromarcia Vabbè 2 minuti 2 minuti 2 minuti 2 minuti Dai ce la possiamo fare Vai Ma dimmi te Perché sempre tutto all'ultimo Perché Mai subito all'inizio del video Vai Dai Dai Dimmi che siamo abbastanza veloci Dimmi di sì Ok 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 Vai 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 Ok Corri ai due jet vicini Perché così non perdiamo tempo Esatto esatto È quello che ho pensato 1 minuto e 40 Mamma mia è pochissimo Va benissimo Buongiorno militari Siamo qua in regola Siamo dei poliziotti Che controllano Che tutto vada bene Esatto E ci prendiamo No no Salici Salici e muoviti Salici e muoviti Ma non mi puoi fare questo Ecco Vattene vattene C'è un carro armato Che mi sta guardando malissimo Dimmi che qua c'è uno 1 minuto e 20 Ok ne ho trovato un altro Ok Vai Vai Corri Stef Aiuto Perché 1 minuto e 15 Perché disco sempre nella parte peggiore io Non lo so Allora Sto prendendo il volo Ok Vado Dimmi che tu dà posto Eh per ora si ho ancora un minuto Quindi dovrei riuscire ad allontanarmi abbastanza Ok E dove ci vediamo? In mare? Non lo so Dov'è il mare? È dall'altra Ah da quella parte qui Aspetta che giro Scusa Attenzione Manca un minuto Ce l'abbiamo fatta Ok Questa volta è andata Adesso come ci si spara scusami Eh sinistro E non spara Destro Destro Ah ecco che E poi credo Rotellina No Sì Con rotellina ti metti i missili Rotellina premuta? No Rotellina che gira Ah eccoli Ok perfetto Ok Equipaggiati i missili? Credo di sì Allora ti vengo incontro Sei pronta? Sì Dove sei? Non lo so Tu dove sei? In mare Ok Ti sto cercando Ok ti ho visto Ecco ti Aspetta Aspetta che ti sto dando le spalle Aspetta Non vale? Aspetta Fammi fare un giretto Ci mettiamo dritti Ok Ci sei? Sì Oddio mi è partito un missile Scherzi? Eh no non ti ho preso È difficilissimo Ok Ti prendo Ti prendo Oh mamma mia Che duele Siamo terribili a guidare Io sto per vomitare Ma pure io sto per sentirmi male Guarda Fuoco No No Dai No Prendila Dove sei? Fuoco Inizio a girare il gioco Fuoco No No Non è giusto Sì che è giusto Non vado Mamma mia Come ti ho preso Incredibile Mamma mia Guarda che bravo che sono come pilota Riesco addirittura No io lo devo dire Proprio con elicotteri Tutti questi veicoli Cioè Zero di zero Non li so guidare Ma io non so se i consolini Sanno come si guida dal pc Perché pochi hanno GTA per pc Esatto Praticamente si usa Il tastierino numerico Della tastiera Quello che sta a tutta destra Ok Con 5 si va verso l'alto Con 8 verso il basso Con 4 a sinistra E con 6 a destra Cioè io non riesco mai Ad abituarmi Oltretutto il joystick Non me lo legge il pc Quindi neanche a dire Che posso giocare con quello Vabbè E nel mentre Dobbiamo premere WASD Quindi Poi Bisogna mollare Cioè devi avere 8 mani Il numero E prendere col mouse Cioè Impossibile Una roba terribile Vabbè Però almeno Anche se con l'aiuto di Lester Siamo riusciti a rubarli Siamo riusciti a fare la sfida Tra noi due Che alla fine era la cosa Più importante Per vincere questa challenge Sì Sarevo atterrata Adesso non esplosio E lo so Stavo guardando il tuo fallimento Nel frattempo Quindi hai vinto tu E dovrei scrivere Uno stato Nel mio profilo facebook A tua scelta Che cosa bella Ok Sarà il momento più divertente Del mondo Lo scriveremo penso Dopo un'oretta No In contrario Un'ora prima Che esce il video Così Nessuno capirà Per un'ora Nessuno capirà Perché tu hai scritto Una cosa del genere Mi divertirò A leggere i commenti E tanti gonsolini Metteranno il like Sì Sì A voglia A voglia Come mi diverto Dai quindi ci fermiamo Così per questo video È stato divertente Come challenge Sarebbe stato meglio Riuscire a farlo Con le quattro steline Spererà davvero Una sfida Semi impossibile Impossibile E sono comunque Sto di sotto così Tanto non c'erano soldi In palio Quindi era giusto Per divertirci un po' Esatto E speriamo che vi siate divertiti Insieme a noi Per ragazzi Non ci ricordate Ci sentite un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao